Sindaco si parla tanto di viabilità a Pescara, ne ha parlato anche un famoso architetto spagnolo Salvo de Rueda che è venuto nei giorni scorsi nel capoluogo adriatico, lei cosa risponde a qualche rilievo che l'architetto spagnolo ha fatto soprattutto per la mancanza a suo dire di marciapiedi a Pescara? Credo che la sintesi del discorso di Rueda sia perfettamente in linea con quello che noi da 27 anni stiamo facendo a Pescara perché lui ha parlato di spazi più ampi per i pedoni e a Pescara abbiamo realizzato due grandi isole pedonali che sono il centro storico e il centro cittadino e quelle due isole sono state realizzate nel periodo in cui il centrodestra governava e quindi è stata fatta una scelta chiara di una città più vivibile, poi ha parlato di mezzi pubblici, noi abbiamo mezzi pubblici elettrici e stiamo cercando di realizzare una viabilità basata sui mezzi pubblici, quello che dice Rueda perché il cittadino non deve muoversi con le macchine e a Pescara c'è un problema di mobilità legata al trasporto privato perché a Pescara entrano 122 mila macchine al giorno ma perché questo succede? Perché oggi non c'è un sistema di trasporto pubblico che garantisca il cittadino per quanto riguarda i termini di percorrenza, i tempi di percorrenza e anche le frequenze invece con le corsie dedicate, quelle che stiamo realizzando con la strada parco e con via Le Marconi e sicuramente il trasporto pubblico sul percorso dedicato sarà molto competitivo rispetto al trasporto privato e quindi potremo trasferire parte di quelle tante persone che entrano a Pescara con il mezzo privato perché non hanno alternative sul mezzo pubblico. Ci sono le corsie preferenziali, ci sono le due corsie per i mezzi privati, corsie che però in prospettiva possono anche essere eliminate nel momento in cui ci sarà un'altra riabilità ma questo è un percorso lungo che deve fare la città, è un percorso ragionato, non si può fare da un giorno all'altro così come chi parla dell'inserimento dei sensi unici e poi parlare con me dei sensi unici che sono quello che 27 anni fa ha fatto il senso unico sulla riviera sul Viale Bovio, quindi diciamo che le tematiche le ho affrontate, parlare di un senso unico sul Viale Marconi vuol dire anche creare un'alternativa di senso unico su un'altra via, quindi sarebbe uno stravolgimento totale, credo che la cosa più logica, più equilibrata sia proprio quella che è stata realizzata.